Esordisce giovanissima nel film TV Colomba, 1982, regia di Giacomo Battiato, nel 1985 debutta nel cinema diretta da Damiano Damiani con il film Pizza Connection, dove ha il suo primo ruolo da protagonista. Anni dopo, interpreta il ruolo di Esther Rassi nella serie televisiva La Piovra 4, 1989, regia di Luigi Perelli, nel 1994 partecipa al Festival di Cannes con il film Il Sogno della Farfalla, regia di Marco Bellocchio, nel 1997 la fidanzata di Gabriel Garco in Angelo Nero e l'anno seguente 1998. Tor recita in teatro, con gli spettacoli, domani notte a mezzanotte qui, perpetua song e nella città l'inferno. L'anno seguente torna sul grande schermo con il film Amor nello specchio, diretto da Salvatore Mayra, nel 2000 e tra i protagonisti della miniserie TV di successo, in onda su Rai 2, Sospetti, regia di Luigi Perelli, tra le altre numerose fiction tv in cui ha in seguito lavorato. Ricordiamo, La Caccia e i figli strappati. Entrambi del, 2005, e diretti da Massimo Spano per Rai 1. La Buona Battaglia Don Pietro Pappagallo. 2006, regia di Gianfranco Albano, nel 2007 ritorna in televisione con la miniserie Il Capo dei Capi, in onda su Canale 5, e dal 2009 al 2012 è protagonista, sempre per Canale 5, della serie tv squadra antimafia Palermo Oggi. Con Giulia Michelini, Simona interpreta la vicequestore Claudia Mares che per i suoi ideali di giustizia sarà, perennemente in lotta contro la mafia. Interpreta il commissario Viola Mantovani in Le Mani dentro la città. Fiction Mediaset ambientata a Milano e riguardante le infiltrazioni della, Drangheta in Lombardia. Nel settembre 2012 in un'intervista ha dichiarato che, la gente ormai per strada non mi chiama. Simona Ma Mares, la sfida sarà riuscire a farla dimenticare. Ma quello che potevo dare l'ho dato. Con questa nuova fiction ho chiuso il mio ciclo sociale. Piuttosto che fossilizzarmi in un personaggio. Mi fermo, ho tre figli, non ho paura di stare senza far nulla. In futuro, dopo tanto impegno vorrei qualcosa di leggero. Sarà l'ultima volta che tratto questi temi. Altrimenti, tanto vale arruolarmi in polizia.